Buongiorno ragazzi, anzi qua è mezzogiorno già, tempo bruttissimo, pioggia, è dalle 10 di stamattina che piove, fa freddo, non mi ricordo da quanti anni sto qua, non mi ricordo un tempo così io, no. Sto andando a lavorare ragazzi, fa un freddo, che te caca proprio, mi sono un cappucciato, adesso è smesso di piove, ma usciamo da questo stabilimento e vediamo in giro. Eccomi qua, se piove una giornata intera c'è l'aga qua in questo paese, quindi. Intanto vi ringrazio che mi mancano quasi tre per arrivare a mille e grazie a voi che ci arrivo, grazie di tutto per adesso. Dopo farò un video per ringraziarvi, quando sarò a un mille. Pare che si sono incappucciati tutti, lo sento in freddo allora. Non tutti, ma gli inglesi saranno con i pantaloncini corti. Questo è un piccolo video prima di andare al lavoro. Il tempo è brutto, ma ci sta un po' di fresco. Io mi sto riprendendo piano piano. Piano piano mi riprendo. Non sono al cento per cento, però andiamo lo stesso al lavoro. Tanto i tamponi riescono negativi, perché così si va a lavorare. Mentre gira un'influenza del cazzo che prende pomodoro, diarrea. Sta girando, quindi a me mi è preso e la sto facendo passare. Dai ragazzi, che ce la faremo. Faccio un altro pezzetto, lo carico, ve lo mando perché entro al lavoro. E spero che domani arrivi i fuochi d'artificio, che arriva a mille. Speriamo. Mi mancano tre, può darsi pure oggi, chi lo sa. Tre persone sono. Basta schiacciargli il dito, si muove troppo sto telefono. Sono a piedi perché con la bici non mi andava proprio. Bene ragazzi, vi saluto, a domani e grazie a tutti. Grazie a chi mi segue e grazie agli iscritti. Grazie.